Le relazioni pericolose di Chauderlot de la Clos Il visconte di Valmont alla presidentessa di Turvel. Non posso fare meno di obbedirvi, signora. Voglio provarvi che tra tutti i difetti che vi compiacete di attribuirmi, mi resta almeno abbastanza delicatezza da non permettermi alcun rimprovero e abbastanza coraggio per impormi il più doloroso dei sacrifici. Mi ordinate il silenzio e l'oblio. Ebbene, costringerò il mio amore a tacere e dimenticherò, se possibile, il modo crudele con cui l'avete accolto. Senza dubbio il desiderio di piacervi non mi dava alcun diritto e riconosco che il bisogno della vostra indulgenza non era un titolo per ottenerla. Ma voi considerate il mio amore come un'offesa. Dimenticate che, se anche può essere una colpa, la causa e la giustificazione sareste pur sempre voi. Dimenticate anche che, abituato ad aprirvi il mio cuore, anche quando questa confidenza poteva nuocermi, era impossibile nascondere i sentimenti che mi animavano. Ma voi ritenete frutto di audacia ciò che era dettato solo dalla buona fede. Un cambio dell'amore più tenero, più puro, più sincero. Voi mi rispingete lontano da voi. Mi parlate perfino di odio. Chi non si lamenterebbe di essere trattato così? Solo io mi sottometto, sopporto tutto e non dico mai niente. Mi colpite e io vi adoro. L'innegabile potere che voi avete su di me vi rende padrona assoluta dei miei sentimenti. E se solo il mio amore vi resiste, se non lo potete distruggere, è solo perché opera vostra e non mia. Non mi illudo certo che cambiate idea, né ve lo chiedo. Non mi aspetto nemmeno quella pietà che l'interesse che qualche volta mi avete dimostrato poteva farmi sperare, ma vi confesso, credo di poter pretendere giustizia da voi. Mi dite che hanno cercato di mettermi in cattiva luce ai vostri occhi, ma se aveste dato retta ai consigli dei vostri amici, non mi avreste nemmeno permesso di avvicinarmi a voi. Sono parole vostre. Chi sono dunque questi amici così zelanti? Senza dubbio persone così severe, dai principi tanto rigidi, consentiranno che si faccia il loro nome. Non vorranno certo restare nell'ombra, confondendosi a volgari calunniatori. Saprò il loro nome e le loro accuse. Riflettete, signora, che ho il diritto di sapere, sia l'una che l'altra cosa, perché voi mi giudicate in base alla loro opinione. Non si condanna un colpevole senza dirgli qual è la sua colpa, senza fargli conoscere i suoi accusatori. Io non chiedo altro e mi impegno fin d'ora a giustificarmi, a obbligarli a smentirsi. Forse ho troppo disprezzato le chiacchiere vane di un pubblico che tengo in pochissimo conto, ma è ben diverso quando si tratta della vostra stima e se dedico la mia vita a meritarmela non me la lascerò certo sfuggire impunemente. Diventa tanto più preziosa perché proprio alla stima cui dovrò rivolgere quella domanda che temete di farmi e che, dite, mi darebbe diritto alla vostra riconoscenza. Ah, non desigo certo la vostra riconoscenza. Ne dovrei a voi se mi deste l'occasione di farvi cosa gradita. Cominciate dunque a rendermi giustizia. Non lasciatemi all'oscuro di ciò che desiderate da me. Se potessi indovinarlo vi eviterei il fastidio di dirmelo. Al piacere di vedervi, aggiungete la felicità di potervi servire. Sarò lieto della vostra indulgenza. Che cosa ve lo può impedire? Non certo, spero, la paura di un rifiuto. Sento che non potrei perdonarvelo. Non è un rifiuto il non rendervi la vostra lettera. Desidero più di voi che non mi sia più necessaria, ma abituato ad attribuirvi un'anima tanto dolce. È solo in questa lettera che posso trovarvi così come volete apparire. Quando vorrei rendervi sensibile al mio amore, capisco che piuttosto che a consentire, voi fuggireste a cento leghe da me. Quando tutto in voi accresce e giustifica il mio amore, è ancora la vostra lettera ripetermi come il mio amore vi offende. E quando vedendovi, mi sembra che il mio amore sia un bene supremo, ho bisogno di leggervi per sentire che non è che un terribile tormento. Adesso forse capirete che potervi rendere questa lettera fatale sarebbe la più grande felicità. Chiedermela ancora sarebbe autorizzarmi a non credere più a ciò che vi è scritto. Immaginate, spero, con quale entusiasmo ve la restituirei. 21 agosto. 36. Il Visconte di Valmont alla Presidentessa di Turbel. Timbro di Digione. La vostra severità aumenta ogni giorno, signora, e se posso essere sincero, sembrate aver più paura di essere indulgente che ingiusta. Dopo avermi condannato senza nemmeno ascoltarmi, vi siete probabilmente accorta che sarebbe stato più facile non leggere le mie ragioni che rispondere a esse. Rifiutate ostinatamente le mie lettere, me le rimandate con dispezzo. Mi obbligate infine a ricorrere, a sotterfugi, proprio nel momento in cui il mio unico scopo è convincervi della mia buona fede. Mi avete messo voi nella necessità di difendermi. Ciò basterà scusare i mezzi a cui devo ricorrere. D'altronde, ero tanto convinto della sincerità dei miei sentimenti e sicuro che per giustificarli ai vostri occhi bastasse farveli conoscere che mi sono permesso questo piccolo stratagemma. Spero che me lo perdonerete e non vi stupirà troppo a constatare come l'amore per dichiararsi sia più ingegnoso dell'indifferenza nell'ignorarlo. Permettetemi dunque, signora, che il mio cuore si apre interamente a voi. Vi appartiene? È giusto che lo conosciate. Quando giunsi al castello di Madame de Rosemont ero ben lontano dal prevedere la sorte che mi aspettava. Non sapevo che ci foste. E anzi, dirò sinceramente, quando anche l'avessi saputo, la mia perturbabile sicurezza non ne sarebbe stata per niente scossa. Non che non rendessi giustizia la vostra bellezza. Non si può negargliela. Ma abituato a provare solo desideri e ad abbandonarmi solo a quelli che venivano incoraggiati dalla speranza, non conoscevo i tormenti dell'amore. Avete visto voi stessa come Madame de Rosemont insistesse perché mi fermassi qualche tempo. Avevo già passato una giornata con voi. Tuttavia non cedetti, almeno credetti di non cedere, che al piacere così naturale e legittimo di usare una cortesia a un'apparente tanto degna di rispetto. Il genere di vita che si fa qui è certamente molto diverso da quello cui ero abituato. Ma non mi costò niente adattarmici e senza cercare di indagare la causa del cambiamento che stava avvenendo in me l'attribuivo unicamente alla capacità di adattamento del mio carattere di cui credo avervi già parlato. Disgraziatamente, ma perché deve essere una disgrazia? Conoscendovi ho capito subito che quell'incantevole volto, la sola cosa che fino allora mi aveva colpito, era il minore dei vostri pregi. La vostra anima celestiale sorprese sedusse la mia. Ammiravo la bellezza. Adorai la virtù. Senza pretendere di conquistarvi, cercai in tutti i modi di meritarvi. Implorando la vostra indulgenza per il passato, ambivo la vostra approvazione per il futuro. La cercavo nei discorsi, la spiavo nello sguardo, nel vostro sguardo da cui sprigionava un veleno ben più pericoloso, in quanto emesso senza intenzione e assorbito senza diffidenza. Allora ho conosciuto l'amore. Ma come ero lontano dal dolermene, deciso a seppellirlo in un eterno silenzio, mi abbandonavo senza paura e senza riserve a questo sentimento delizioso. Ogni giorno il suo potere aumentava. Ben presto il piacere di vedervi si mutò in bisogno. Vi assentavate un momento? La tristezza mi stringeva il cuore, ma palpitava di gioia il rumore che mi annunciava il vostro ritorno. Vivevo di voi e per voi. Tuttavia voi stessa ne siete testimone. Mai, né nella spensieratezza dei giochi o nella foga di un'animata conversazione, mai mi sfuggì una parola che potesse tradire il segreto del mio cuore. Ma alla fine doveva arrivare il giorno della mia disgrazia e per una incredibile fatalità una buona azione ne fu il segnale. Sì, signora, tra quegli infelici che avevo soccorso voi, abbandonandovi a quella preziosa sensibilità che abbellisce la stessa bellezza e aggiunge pregio alla virtù, avete finito col perdere del tutto il mio cuore, già inebriato da troppo amore. Vi ricordate forse che turbamento si impadronì di me al ritorno. Ebbene, cercavo di combattere un sentimento che capivo stava diventando più forte di me. Logorato da questa imparilotta, per un caso che non avevo potuto prevedere rimasi solo con voi. Allora fui vinto, ve lo confesso. Il mio cuore traboccante d'amore non pote trattenere né le parole né le lacrime. Ma è dunque un delitto? E se anche lo fosse, non è stato abbastanza punito dai terribili tormenti cui sono sottoposto? Divorato da un amore senza speranza, imploro la vostra pietà e non trovo che il vostro disprezzo. Non ho altra gioia che quella di vedervi. I miei occhi vi cercano, mio malgrado, eppure tremo nell'incontrare il vostro sguardo. Nello stato crudele in cui mi avete ridotto, passo le giornate a nascondere la mia angoscia e la notte ad abbandonarmi a essa, mentre voi, calma e tranquilla, conoscete questi tormenti solo per provocarli e esserne compiaciuta. Tuttavia siete voi che vi lamentate mentre io mi scuso. Ecco dunque, signora, il resoconto fedele di quelli che chiamate i miei torti, che forse sarebbe più esatto chiamare le mie disgrazie. Un amore puro e sincero, un rispetto che non è mai venuto meno, un'assoluta sottomissione. Ecco i sentimenti che mi avete ispirato. Non avrei esitato a offrirli in omaggio a Dio stesso. Voi che siete la sua opera più bella, imitatelo nella sua indulgenza. Pensate le mie pene crudeli, pensate soprattutto che tenuto in sospeso da voi, tra l'estrema felicità e la disperazione, la prima parola che voi pronuncerete deciderà per sempre della mia sorte. 23 agosto. 37. La presidentessa di Tourvelle a Madame de Volange. Mi sottometto, signora, ai consigli che mi suggerisce la vostra amicizia. Sono abituata a seguire scrupolosamente il vostro parere e a crederlo basato sempre sulla ragionevolezza. Devo riconoscere che Monsieur de Valmont deve essere davvero pericoloso se può contemporaneamente fingere di essere quello che sembra qui e rimanere quello che voi dipingete. Comunque sia, dato che lo pretendete, lo allontanerò da me. O almeno cercherò di fare il possibile, perché spesso le cose, che in fondo dovrebbero essere semplicissime, diventano imbarazzanti, per ragioni di forma. Resto dell'idea che non sia possibile far questa richiesta a sua zia. Sarebbe spiacevole per lei e per lui. D'altra parte ho qualche perplessità a decidere di andarmene io stessa, perché, oltre alle ragioni che vi ho già riferito riguardo a Monsieur de Tourvelle, se la mia partenza indisponesse come molto probabile Monsieur de Valmont non gli sarebbe facile seguirmi a Parigi e allora il suo ritorno di cui sarei o almeno sembrerei essere nella causa non riuscirebbe più strano di un incontro in campagna in casa di una persona che tutti sanno essere sua parente e mia amica. Non mi resta altro che ottenere da lui che parta. Capisco che non è una proposta facile a farsi, ma dato che sembra gli stia molto a cuore e provarmi che è molto più onesto di quanto si crede. Non dispero di riuscire. Non mi spiacerebbe nemmeno tra l'altro tentare questa prova. Avrei in fondo l'occasione di giudicare se è vero, come dice lui, che le donne veramente oneste non hanno mai avuto, né avranno mai, da lamentarsi del suo comportamento. Se parte, sarà infatti per un riguardo a me, perché sono sicura che è in programma di passare qui gran parte dell'autunno. Se rifiuta e si ostina a restare, sarò sempre in tempo a partire io, ve lo prometto. Ecco, signora, credo, tutto quello che la vostra amicizia esigeva da me. Farò in modo di soddisfarla e di provarvi che, malgrado il calore con cui ho difeso Monside Valmont, sono sempre disposta, non solo ad ascoltare, ma anche a seguire i consigli dei miei amici. 25 agosto. 38. La Marchesa di Mertoglio, al Visconte di Valmont. Il vostro enorme plico mi è arrivato adesso, mio caro Visconte. Se era data esatta, avrei dovuto riceverlo 24 ore prima, comunque sia. Se lo leggessi non avrei più tempo per rispondervi, per cui preferisco dirvi che l'ho ricevuto e parlare d'altro. Non che abbia molto da raccontarvi, a Parigi l'autunno non lascia quasi più uomo che abbia un qualsiasi aspetto umano. Così da un mese sono di una castigatezza da morire e chiunque altro che non fosse il mio cavaliere sarebbe stufo di queste continue prove di fedeltà. Non avendo niente da fare, mi distrago con la piccola Boulange, anzi, è di lei che voglio parlarvi. Sapete che avete perso molto di più di quel che crediate, a non esservi voluto occupare di questa ragazzina. È veramente deliziosa, non ha né carattere né principi. Pensate come deve essere dolce la sua compagnia. Non credo sia molto passionale, ma tutto lascia supporre in lei una vivissima sensibilità. Priva di spirito e di finezza, ha però una sorta di falsità istintiva, se così si può dire, che a volte stupisce perfino me. E le farà avere ancora più successo in quanto il suo viso è l'immagine del più innocente candore. È per natura affettuosissima, talvolta mi diverte. Bisogna vedere con che facilità si monta la testa. E allora è ancora più deliziosa perché non sa niente, ma proprio niente, di tutto quello che smagna di sapere. È presa da strane impazienze, ride, si arrabbia, piange e poi mi implora a distruirla, ma con un'ingenuità veramente incantevole. Davvero sono quasi gelosa di colui a cui è riservato questo piacere. Non so se vi ho scritto che da cinque giorni ho l'onore di essere la sua confidente. Come potete immaginare, da prima ho fatto la severa, ma non appena mi sono accorta che credeva di avermi convinta con le sue pessime ragioni. Ho finto di prenderle per buone. Adesso è profondamente persuasa che io abbia cambiato idea grazie alla sua eloquenza, ma era una precauzione necessaria per non compromettermi. Le ho permesso di scrivere a lui e dirgli ti amo, anzi, il giorno stesso le ho combinato un incontro col suo danceni. Ma figuratevi che lui è così stupido, che non è ancora riuscito a ottenere nemmeno un bacio. Eppure quel ragazzo scrive dei versi graziosi. Mio Dio, che bestie queste persone intelligenti. lui lo è a tal punto che mi mette in imbarazzo perché, insomma, non posso far da guida anche a lui. Davvero in questo momento mi sareste molto utile. Voi siete abbastanza amico di danceni per avere la sua fiducia. Se questo accadesse andremmo a gonfie vele. Insomma, mandate al diavolo la vostra presidentessa perché non voglio assolutamente che Gercur la scampi. Del resto, ieri ho parlato di lui alla piccola e gli ero dipinto così bene che se fosse sua moglie da dieci anni non lo direbbe di più però l'ho catechizzata sulla fedeltà coniugale. O su questo punto sono severissima, non transigo e così da una parte ho rinsaldato la mia reputazione di virtuosa che un'eccessiva condiscendenza poteva rovinare. Dall'altra ho aumentato in lei l'odio in cui voglio gratificare suo marito. Infine spero che facendole credere che può fare liberamente l'amore solo nel breve periodo che le resta prima del matrimonio farà in fretta a decidersi senza perdere altro tempo. Addio Visconte vado a sedermi alla scrivania e lì leggerò il vostro volume. 27 agosto 39 Cécile Volange a Sophie Carré Sono triste e preoccupata mia cara Sofia ho pianto quasi tutta la notte non è che il momento non sia molto felice ma prevedo non durerà a lungo ieri sera sono stata all'opera con Madame de Mertoglie abbiamo parlato a lungo del mio matrimonio e non ho saputo niente di bello devo sposare il conte di Gercourt il matrimonio dovrebbe essere in ottobre il ricco nobile colonnello fin qui va tutto bene ma intanto è vecchio figurati che ha 36 anni e poi Madame de Mertoglie dice che è noioso e severo e ha paura che non sarò affatto felice con lui ho capito benissimo che ne è più che sicura ma non voleva dirmelo per non addolorarmi per quasi tutta la serata mi ha parlato dei doveri delle mogli verso i mariti lei ammette che Gercourt non è per niente simpatico ma tuttavia dice che bisognerà lo ami ci crederesti mi ha anche detto che una volta sposata non devo più amare il cavaliere d'Anseigny come se fosse possibile oh ti assicuro che l'amerò sempre guarda preferisco non sposarmi che questo monsieur de Gercourt si arrangi non sono stata io a cercarlo adesso è in Corsica ben lontano da qui vorrei che ci restasse dieci anni se non avessi paura di tornare in collegio direi a mamon che non so che farmene di un marito così ma sarebbe peggio insomma sono nei pasticci sento che non ho mai amato tanto monsieur d'Anseigny come adesso e quando penso che mi resta soltanto un mese per essere come sono mi vengono subito le lacrime agli occhi unica consolazione l'amicizia di madame de Mertoglie ha un cuore così buono condivide tutti i miei dispiaceri come se fosse me stessa e quando sono con lei non ci penso più inoltre mi è molto utile perché le poche cose che so è lei che me le ha insegnate è così cara che le dico tutto quello che penso senza mai vergognarmi a volte quando trova qualcosa che non va mi sgrida ma lo fa con estrema dolcezza poi io l'abbraccio di tutto cuore finché non è più arrabbiata almeno a lei potrò voler bene finché vorrò senza che ci sia niente di male e questo pensiero mi consola però abbiamo deciso davanti alla gente di non far vedere che le voglio tanto bene e soprattutto davanti a Mamman perché potrebbe avere qualche sospetto a proposito del cavalier d'Anseigny ti giuro che se potessi vivere sempre come adesso sarei davvero felice ma c'è di mezzo quello odioso Gercourt ma basta non parliamone più se no ridivento triste invece scriverò al cavalier d'Anseigny gli parlerò solo del mio amore e non dei miei dispiaceri perché non voglio dolorarlo addio mia cara amica vedi che avresti torto a lamentarti e che ho un bell'essere occupata come dici tu mi resta sempre il tempo di volerti bene e di scriverti 27 agosto e di scriverò al cavalier d'Anseigny e di scriverò al cavalier d'Anseigny e di scriverò al cavalier di